O combattere o scappare, che non avevamo niente. Quando venivano su loro non c'era niente da fare, però ultimamente quando si è ingrossato, che abbiamo avuto anche la fortuna di avere delle armi, allora gli abbiamo dato il filo da torcere. Vi ricordo la battaglia di Borgosesia, la battaglia di Megolo, la battaglia di Varallo-Sesia, la battaglia di Val Sessera, tutte quelle valate attorno, che erano verso il Sempione, che poi scendono in Svissera. Abbiamo fatto tutto il possibile. Siamo qui a cercare di farvi capire che dovete lottare, lottare. Non lasciatevi prendere dalla paura. La paura non l'avete, senz'altro. Ma è così. La battaglia di Borgosesia La battaglia di Borgosesia